Cari concittadini, buongiorno e buon venerdì. Lunedì insieme ai consiglieri regionali del territorio Tiziano Centis e Alfonso Singh abbiamo presentato all'assessore all'autonomia locale, all'assessore regionale Pierpaolo Roberti, un progetto molto ambizioso per San Vito, la cittadella dello sport. Un progetto di 4 milioni e 200 mila euro presentati in forma ufficiale nella fase di concertazione con la regione. Un progetto che prevede la realizzazione di una bretella all'ingresso di via Pordenone fino all'altezza della nostra baita degli Alpini, all'altezza della piscina. Un campo da calcio sintetico, nuovi spogliatoi e nuove tribune e anche locali tecnici e ampi parcheggi, nuovi parcheggi legati appunto alla riqualificazione della viabilità di quell'area. Un progetto molto importante per San Vito, un progetto che va nella direzione di una maggiore sicurezza dell'area a beneficio degli atleti, a beneficio di tutte le famiglie, dei giudici, di tutto il personale impegnato nell'area dello sport, la maggiore area dello sport, proprio a San Vito a Tagliamento con tutti gli impianti che vanno a completare questa offerta veramente qualificante per tutte le nostre famiglie e per tutti i nostri atleti. Ieri il Consiglio Comunale di San Vito a Tagliamento ha approvato un'importante variazione di bilancio che prevede stanziamenti significativi per tante attività e tanti investimenti che il nostro Comune e la nostra amministrazione sta attuando per la città. 800.000 euro per la realizzazione della nuova Rotonda di Rosa in via Udine, 40.000 euro un ulteriore aiuto per le nostre scuole paritarie, 30.000 euro che si aggiungono ad altri investimenti per quanto riguarda l'arredo urbano dei nostri centri, in particolare della nostra piazza e la vitalità, quindi con iniziative e tanti eventi che creeranno maggiore attrattività dei nostri centri, soprattutto nel periodo natalizio, il periodo con maggiori opportunità per le nostre attività commerciali. 335.000 euro per l'ampliamento dell'asilo nido comunale a Ligugnana, 63.000 euro per il nuovo e ambizioso piano potature nel nostro territorio, piano potature degli alberi e 75.000 euro per un nuovo mezzo, un nuovo mezzo a servizio della nostra protezione civile, che naturalmente ringraziamo per l'importantissimo e irrinunciabile contributo alla nostra comunità, soprattutto nelle fasi emergenziali di quest'anno. Quindi sicuramente un segnale concreto, ma anche un segnale di vicinanza per un grande gruppo, quello di San Vito, della protezione civile. Tanti, tantissimi eventi questo fine settimana a San Vito, al Tagliamento. Oggi, all'interno della programmazione del piccolo festival di animazione, all'ora 14.30, ci sarà l'evento Anima Young con Updata all'auditorium comunale. Sempre all'auditorium all'ora 18, Visual Music con tanti ospiti e all'ora 21 una seconda competizione con la presentazione della giuria con Massimo Giacom, Eva Poles, Simone Angelini e Elisabetta di sopra. Sempre attivo lo spazio PFA Hub presso la chiesetta di San Lorenzo, dall'ora 16 all'ora 18 con i laboratori con Milos Tomic e dall'ora 23 all'ora 24 DJ set con Eva Poles con un meeting con gli autori. All'ora 20.30 questa sera per le musicali in Villa, ventitresima edizione, Musica allo specchio, incontri con la musica di oggi e di ieri. Al teatro Arrigoni, ingresso libro a fine eserimento a posti, ma la prenotazione è consigliata. Con un messaggio o whatsapp al numero 338 20 47 725 oppure una mail a musicapurapordenone.gmail.com Sempre stasera alle ore 21 all'auditorium Concordia, un altro importante incontro organizzato dal CAI di San Vito Tegliamento, archivi ritrovati, un percorso fra i monti di Giuseppe Popi Miotti. Domani sabato 19 novembre, sempre all'interno della programmazione del piccolo festival di animazione, all'auditorium comunale, all'ora 14.30 Anima Kids 2, all'ora 18 Green Animation con Fabio Bozzetto e Diego Zucchi, all'ora 20.30 la terza competizione con Marco Bellano, Irene Mossa e Beatrice Pucci alla giuria, all'ora 22 la cerimonia di premiazione, all'ora 23 lo spettacolo finale con Nigel Panasco. Sempre aperto lo spazio nella chiesa di San Lorenzo, all'ora 10 un meeting con gli autori, con Elisabetta di sopra e all'ora 24 la chiusura e con le proiezioni con Visual e Music. Sempre sabato, all'ora 21 presso i locali dell'Archiclar a Ligugnana, un evento di rock puro con i Vertical Limit e poi soprattutto con i nostri Empatia, una storica band di San Vito Tagliamento, proprio a Ligugnana, grazie al lavoro e all'organizzazione dei ragazzi dell'Archiclar. Domenica 20 novembre, sempre aperto lo spazio PFA Hub alla chiesa di San Lorenzo, all'ora 11 visita di guidata alla mostra Disegni Animati, all'ora 10.30 è il concerto Santa Cecilia a cura della nostra filarmonica a San Vittese, che accompagnerà la Santa Messa con brani liturgici e religiosi. Info alla mail info-afisanvittese.it, numero di telefono 339-67-71-611. Alle ore 16 invece, in Duomo, il concerto del gruppo polifonico Armonie di Spilimbergo, con il direttore Roberto Frisano, organo Giuliano Banelli, l'ingresso è libero. All'ora 20.45 all'interno della programmazione di San Vito Musica, un concerto molto importante per Paolo Sweet, con Glauco Venier, direttore pianoforte, solista con la compagnia Arerea, che crea una coreografia di danza contemporanea, un evento molto importante, all'auditorio Unzotti alle ore 20.45, la biglietteria presso il punto IAT, aperto venerdì, sabato e domenica, dalle ore 9.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 18.30, oppure in auditorio un poco prima dello spettacolo. sempre domenica 20 novembre, dalle ore 9 alle 12.00 sarà la festa del dolce 2022 a Gleris, nei rara festeggiamenti, presso l'asilo parrucchiare, all'ora 14.30 ci sarà la messa con la processione, alle 15.30 una piacevole castagnata e bicchierata. mentre martedì 22 novembre, grazie alla programmazione della Pro San Vito, ci sarà all'auditorio Unzotti all'ora 21.00 la proiezione del film Il Colibri. Grazie e buon fine settimana a tutti.